Buonasera da TGTG, il conflitto in Siria e poi la situazione dei centri di detenzione in Libia e ancora l'appello del Papa per il Cile. Gireremo il mondo in questi minuti e lo faremo per la prima volta e qui nei nostri studi con il Vice Ministro degli Esteri Emanuela Del Re. Grazie per essere con noi. Grazie a voi e buonasera a tutti gli spettatori. E come sempre andiamo a dare un'occhiata ai principali titoli dei TG della Sera, subito dopo la nostra sigla. Manovra Conte accerchiato pone la prima fiducia al Senato sul decreto imprese. Il provvedimento tiene il via libera e passa alla Camera, ma nella maggioranza è alta tensione. L'appello di Zingaretti agli alleati pretendo lealtà. Attesa per la risposta di Roma, richiamo di Bruxelles sul debito pubblico. Il titolare dell'economia Gualtieri lo abbasseremo in modo graduale e sostenibile. I nostri servizi segreti estranei alla Russiagate. Conte ascoltato dal Comitato Parlamentare per la Sicurezza. Abbiamo sempre agito nel rispetto della legge. Poi il Premier attacca Salvini. Chiarisca cosa ci faceva Mosca da Ministro dell'Interno con Savoini e le massime autorità russe. Russiagate, Conte Alkopasir. Mai lesi gli interessi nazionali, mai parlato con Barro. Chiarito, ora Salvini faccia lo stesso. Primi titoli su temi che non le competono strettamente, ma che sono del governo di cui lei fa parte. Allora, prima di cominciare, io le chiederei da subito. È stata una delle poche figure confermate anche in questo secondo governo guidato da Giuseppe Conte. Come sta andando questa esperienza? Come si trova anche adesso con Di Maio e la Farnesina? Io mi trovo benissimo, naturalmente, anche perché il dibattito politico dobbiamo abituarci a considerarlo una ricchezza. Quando soprattutto c'è appunto una discussione, una franca confronto sui temi della politica, per il bene dell'Italia, secondo me appunto è un arricchimento. Sta andando tutto bene proprio perché appunto c'è una forte apertura e una grande capacità di confronto. Anche questa, diciamo, inedita alleanza per l'appunto che è stata sperimentata. Abbiamo sentito, ed è molto importante, torneremo anche tra poco, il tema della situazione ovviamente in Cile. Partiamo da qua, Vice Ministro. C'è stato un appello oggi del Papa, di Papa Francesco all'Udienza Generale. Ve lo faccio sentire per commentarlo insieme. Seguo con preoccupazione quanto sta accadendo in Cile. Mi auguro che ponendo fine alle violente manifestazioni attraverso il dialogo, ci si adoperi per trovare soluzioni alla crisi e far fronte alle difficoltà che l'hanno generata per il bene dell'intera popolazione. Vice Ministro, che effetto le fanno queste parole per una situazione davvero critica? Mi fanno l'effetto di un Papa che effettivamente sa seguire da vicino tutte le popolazioni e costituisce un punto di riferimento per tutte le fazioni, per tutte le persone, per tutti noi che ci occupiamo appunto di prendere decisioni positive. Credo che il suo appello alla non violenza sia fondamentale, si applica ahimè a molti contesti oggi, però certamente esprimere in particolare un pensiero per le sofferenze attuali del Cile è doveroso. Qui stiamo vedendo insieme alcune immagini, ma potremmo anche estenderle, se pensiamo alla Venezuela, alla Bolivia, all'Equador. So che lei partirà, come fa sempre, devo dire molto spesso, ma per una conferenza di solidarietà che si riferisce proprio alla situazione in Venezuela, credo settimana prossima. Sì, certamente, la settimana prossima a Bruxelles ci sono vari incontri, perché poi tra l'altro l'Italia fa parte del gruppo di contatto e naturalmente noi siamo in prima linea con aiuti umanitari, già da tempo ci siamo resi conto di quanto fosse difficile la situazione per la popolazione. Abbiamo tra l'altro una nutrita comunità italiana di circa 150 mila persone, che naturalmente sono una grossa preoccupazione per noi insieme a tutta la popolazione, perché gli aiuti poi naturalmente vanno a tutti. Abbiamo già dato un aiuto umanitario, siamo anche preoccupati per l'esodo di più di 4 milioni di persone dal Venezuela, che naturalmente sta ricadendo sui paesi limitrofi, causando a sua volta altre crisi, perché naturalmente questi paesi devono far fronte. Noi siamo in prima linea, aiutiamo soprattutto nel rispetto del diritto umanitario internazionale e soprattutto naturalmente dando i nostri aiuti economici alle organizzazioni internazionali, come la Croce Rossa internazionale e l'UNHCR, che ovviamente poi si occupano di soccorrere i bisognosi. Tra gli altri titoli dei Tg della Sera, andati in onda pochi minuti fa, non possono mancare, come di fatto in ogni edizione, gli esteri, ma sentite su quali temi. 39 cadaveri ammassati in un container, la scoperta shock nella quantea dell'Essex, nel sud-est dell'Inghilterra, 38 adulti e un adolescente morti nel tentativo di entrare clandesivamente in Gran Bretagna, arrestato l'autista nord-irlandese del TIR, partito dalla Bulgaria. Per le persone estipate nel container non c'è stato scampo. Trump in Siria tregua a Regge, via le sanzioni alla Turchia, ma al suo inviato denuncia fuggiti 100 terroristi ISIS e il presidente rischia l'impeachment per pressioni su alleati a fini di politica interna. Per gasto allo stativo, la consulta accoglie il ricorso della procura di Perugia. Anche i detenuti per mafia, che non collaborano, possono godere di permessi premi. Vedere 39 cadaveri trovati nel container di un TIR è una sconfitta di fatto per i governanti di questo pezzo di mondo che non riescono a far fronte a tutto questo. Certamente è una sconfitta, una grande responsabilità, un dolore interiore che è costante perché, come sappiamo, questo è solo uno dei numerosissimi episodi di persone che perdono la vita nel tentativo di migrare. La responsabilità fortissima che noi sentiamo deve imporci una lucidità. Fuori dai clamori, fuori dagli slogan, capire il problema per quello che è, cercare di capire che effettivamente le migrazioni sono un'aspirazione naturale dell'essere umano, ci sono sempre state e sempre ci saranno. E che peraltro l'Europa è solo una delle mete perché la maggior parte delle migrazioni avvengono tra paesi limitrofi, per esempio in Africa. Che cosa si può fare per risolvere? Certamente costruire un'architettura di risposta che non sia emergenziale, ma che sia strutturale. Cioè andando veramente alla radice del problema. Sul posto? Soccorrendo i paesi e certamente creando occasione di sviluppo nei paesi di origine, ma poi soccorrendo i migranti e oltretutto naturalmente creando delle alternative. Una struttura che deve essere molto articolata, tant'è vero si parla appunto di economia circolare, di ripristinare delle forme anche regolari di quote migratorie e così via. Uno degli esempi più virtuosi sono i corridoi umanitari, devo dire la verità, che vanno a soccorrere i gruppi più vulnerabili selezionandoli, facendo in modo che non soltanto possano avere un percorso sicuro nella loro migrazione, quindi arrivare con un semplice aereo, ma per di più che poi possano avere un vero progetto di vita. Questo riguarda i gruppi più vulnerabili, ma dovrebbe secondo me poi diventare un po' una regola più ampia, tant'è vero che stiamo tentando di trasformare da modello virtuoso italiano, che è stato anche molto apprezzato e replicato anche da altri paesi, in un modello proprio europeo, una prassi consolidata. E sentire da un esponente del governo l'importanza del soccorrere queste persone, perché abbiamo visto un caso in Inghilterra, ma nel Mediterraneo è diventato un fatto cimitero, ha certamente il suo peso. E rilacciandomi ai corridoi umanitari, ci teniamo a fare questa sottolineatura, ma ricordare anche come sono stati promossi dalla Conferenza Episcopale Italiana tramite Caritas Italiana e Fondazione Migrantes, Comunità Sant'Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Tavola Valdese, la stessa poi è stata presente in alcuni momenti al loro arrivo, una soluzione sicura, mentre altre situazioni sono state denunciate e penso per esempio alla prima riunione umanitaria che è stata fatta alla Farnesina in una fase di grande denuncia proprio sul territorio, sulle condizioni in cui si trovano a vivere questi migranti in detenzione. Si è conclusa proprio ieri, le chiedo che cosa è emerso di concreto. Ma certamente è stato un momento di verifica molto importante sul caso Libia in particolare e devo dire che erano presenti tutti gli attori, dalle organizzazioni internazionali a me come membro del governo, alle ONG che operano sul territorio, una e altre e ancora anche altri paesi diciamo interessati oltre all'Unione Europea. Io devo dire che questo approccio, cioè di condividere le informazioni, cercare di comprendere con vera attenzione quali sono le problematiche sul terreno, ci porta poi a delle soluzioni realmente efficaci, perché altrimenti se non si conosce la situazione dal suo interno si rischia semplicemente di speculare. Mi lasci dire tra l'altro che era presente il nostro ambasciatore in Libia, a cui va tutto il mio plauso insieme a tutto il suo staff, perché l'ambasciata italiana, sapete, resta un punto di riferimento assoluto. E lo diventa ancora di più nel momento in cui fa da raccordo per tutte queste attività che si svolgono sul territorio in circostanze molto difficoltose. Tra l'altro la Libia sappiamo che non ha soltanto campi di detenzione, peraltro con persone detenute arbitrariamente, ma ci sono anche 700 mila migranti. In questo momento a causa del conflitto ci sono circa 24-25 mila famiglie sfollate. Insomma, una situazione molto complessa che meritava questi due giorni assolutamente profiqui, peraltro con la presenza dell'UNHCR. E che proprio a Tripoli ha aperto una struttura di transito e partenza. E anche del nuovo responsabile per gli aiuti umanitari delle Nazioni Unite è il signor Yacoub Elillo, con il quale effettivamente abbiamo una collaborazione costante insieme naturalmente a Filippo Grandi, che è il direttore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, con il quale naturalmente concordiamo le strategie. Perché il segreto sta proprio nel lavorare insieme con un approccio eolistico per risolvere i problemi. Ecco, Vice Ministro, parlando di Libia, io non posso non chiederle, sarebbe una omissione giornalistica il caso lanciato da venire dal collega Nello Scavo sulla presenza in Italia al cara di Mineo di un trafficante di uomini, Bigia, con delegati inviati del governo. Era in Sicilia, a Roma nel 2017, con documenti autentici, lui poi risponde, non ha voluto rivelare i dettagli, continua a difendere la patria, ha detto che idea si è fatta lei di questa storia? Io devo dire che non posso farmi un'idea finché non abbiamo degli elementi precisi. Il sottosegretario agli interni, Carlo Sibili, è stato molto chiaro su questo. Abbiamo bisogno di studiare la questione. Quello che posso dire è che naturalmente, proprio perché intorno al fenomeno migratorio si creano queste, come dire, nubi oscure o comunque territori di ambiguità, è doveroso cominciare a ragionare in termini molto più concreti, uscendo appunto dalla propaganda e facendo in modo che le nostre strategie veramente incidano sul fenomeno. Viceministro, la porto in Siria, Trump ha ordinato notizia davvero di oggi di togliere le sanzioni contro la Turchia. Voi alla Farnesina come state guardando a questa situazione? Dunque, le sanzioni sono uno degli elementi di questa dolorosa storia degli ultimi giorni e naturalmente io personalmente non sono stata mai a favore delle sanzioni perché le sanzioni spesso vanno più che altro a, come dire, soddisfare l'opinione pubblica interna dei paesi che decidono di applicarle. Certamente Trump in questo è stato lungimirante ma anche perché ci sono stati dei segnali di cambiamento nella questione attuale in Siria. Aggiungo, mi scusi se l'interrompo, che la Turchia renderà permanente la tregua secondo quanto detto da Trump a questo per il nostro pubblico. Questo, sì, certamente potrebbe essere una buona notizia. speriamo che appunto venga davvero confermata io sono fiduciosa perché lo spero come cittadina del mondo come persona ma posso dirle che è chiaro che da questo punto di vista l'Italia da un lato ovviamente condanna fermamente l'attacco che è stato fatto dai turchi certamente è consapevole dell'importanza del ruolo dei russi che da molto tempo stanno agendo sul territorio e hanno permesso diciamolo pure soprattutto ad Assad di riconquistare più di due terzi del territorio e quindi è chiaro che sono riusciti in qualche modo ad affermarsi soprattutto anche con l'aiuto ovviamente delle forze democratiche siriane che sono composte per la maggior parte dai curdi. Quindi diciamo che l'Italia nel condannare però cerca anche di mantenere ferma la sua posizione rispetto al processo democratico. Noi sosteniamo fortemente la risoluzione 2254 ovviamente delle Nazioni Unite ma non soltanto sosteniamo il processo democratico per quanto riguarda il comitato costituzionale che appunto ha l'ambizione di creare quella costituzione che potrebbe addirittura appunto fornire una piattaforma su cui poi costruire pian piano uno stato di diritto e una democrazia solida. Certamente mi lasci dire solo una cosa avendo passato molti anni tra i curdi nei campi dei sindi e arriva fra l'altro il governo da esperienze sul campo molto forti i curdi siriani nei campi dei rifugiati siriani i curdi iracheni quindi conosco la questione kurda va ricordato il ruolo fondamentale dei curdi siriani nella lotta contro Daesh io credo che Erdogan questo lo sappia cerca di dare una immagine di capacità di distinzione tra le varie fazioni certamente in questo momento diciamo i curdi colpiti lo sono in maniera diciamo così forse anche inappropriata e indiscriminata e meritano comunque che a loro si rivolga sempre un pensiero molto importante perché sono un elemento fondamentale negli equilibri regionali e soprattutto un elemento stabilizzatore e noi concludiamo sempre dopo che abbiamo affrontato tante situazioni di crisi non ne vogliamo parlare ma queste queste sono con una Dulcis in fondo che ci saluta a fine puntata e che ha a che fare abbiamo trovato proprio con la data di domani a quando entrava in vigore lo statuto che ha fatto sì che ieri come oggi venga celebrata la giornata delle Nazioni Unite e dato che siamo in chiusura le chiedo una battuta secondo lei sono uno strumento come dire attuale ancora decisivo io credo le Nazioni Unite sono stata l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ho visto le foto appunto lei ha visto le foto a settembre io credo che non ci sia niente di più bello che vedere in una sala io mi emoziono dicevo foto perché ovviamente abbiamo letto anche quello che c'è stato ecco di vedere in una stessa unica sala tutti i paesi seduti intorno ad uno stesso obiettivo e io credo che questa sia l'immagine più bella che ci dobbiamo portare nel cuore e penso che l'Italia tra l'altro che è un paese importantissimo nelle Nazioni Unite ed è un paese che veramente decide i destini del mondo abbia un ruolo ancora più importante proprio perché obiettivamente ha dei valori talmente belli importanti conquistati con molta fatica nella storia che certamente insomma nelle Nazioni Unite si trova molto bene e può esprimersi al massimo e noi questo ce l'auguriamo davvero grazie allora per essere stata con noi in studio in diretta al Vice Ministro degli Esteri Emanuele Del Re grazie davvero grazie tanto nostro Dulcis in fondo buonasera a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti